Vanessa Incontrada racconta in un'intervista a GQ come sta elaborando la sua separazione da Zelig mentre sta girando in Lituania i cerchi nell'acqua a un thriller per la tv. Quando ho deciso di andare via mi dicevo a chi le darò le chiavi di casa, speravo che facessero una scelta giusta e Paola Cortellesi è la scelta migliore che potessero fare, perché lei è una delle poche artiste che stimo veramente, completa, può dare tanto a Zelig in maniera totalmente diversa rispetto a me, perché io e lei siamo come il cioccolato e la vaniglia, le auguro di essere accolta come hanno accolto me, nelle relazioni c'è sempre uno che lascia e uno che viene lasciato, in questo caso chi ha lasciato chi? Più io risponde alla incontrada dopo 7 anni avevo voglia di provare altro, ho iniziato che avevo 23 anni, ora ne ho 31, mi arrivavano altre proposte e non potevo accettarle perché lavoravo a Zelig, Bisio, per me era come un secondo marito, lasciarlo mi fa diventare il cuoricino piccolo.